cari amiche e cari amici il prossimo 25 settembre siamo tutti chiamati ad esprimere un voto importante oggi più che mai è necessario avere una rappresentanza parlamentare che dia voce alle nostre problematiche delle nostre imprese e del nostro tessuto sociale con la mia candidatura e l'intero territorio ad essere candidato ed insieme rappresenteremo e tuteleremo la nostra terra all'interno del parlamento italiano chiedo il vostro voto perché finalmente abbiamo la possibilità di eleggere un figlio della nostra terra e non una persona calata dall'alto chiedo il vostro voto perché con la mia elezione sarà l'intero territorio ad essere eletto il vostro voto perché sono e resterò sempre a tilio e non tradirò mai la fiducia di chi ha creduto in me grazie a tutti